Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Riprendiamo le catechesi sul tema del discernimento. Perché è molto importante il tema del discernimento per sapere cosa succede dentro di noi. Dalle volte sentimenti, idee, dobbiamo discernere da dove vengono, dove mi portano, a quale decisione. E oggi ci soffermiamo sul primo dei suoi elementi costitutivi, cioè la preghiera. Per discernere ci vuole stare in un ambiente, in uno stato di preghiera. La preghiera è un aiuto indispensabile per il discernimento spirituale, soprattutto quando coinvolge gli affetti, consentendo di rivolgerci a Dio con semplicità e familiarità, come si parla a un amico. E saper andare oltre i pensieri, entrare in intimità con il Signore, con una spontaneità affettuosa. Il segreto della vita dei Santi è la familiarità e confidenza con Dio, che cresce in loro e rende sempre più facile riconoscere quello che a Lui è gradito. La preghiera vera è familiarità e confidenza con Dio. Non è recitare preghiere come un papagallo, bla 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 bla, no. La vera preghiera è questa spontaneità e affetto col Signore. Questa familiarità vince la paura, vince il dubbio che la sua volontà non sia per il nostro bene, una tentazione che a volte attraversa i nostri pensieri e rende il cuore inquieto, incerto o amaro pure. Il discernimento non pretende una certezza assoluta, non è un chimicamente puro metodo, no. Non pretende una certezza assoluta, perché riguarda la vita. E la vita non è sempre logica, eh. Presenta molti aspetti che non si lasciano racchiudere in una sola categoria di pensiero. Vorremmo sapere con precisione cosa andrebbe fatto, eppure anche quando capita, non per questo agiamo sempre di conseguenza. Quante volte abbiamo fatto anche noi l'esperienza descritta dall'Apostolo Paolo, che dice così, «Io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio». Tante volte. Non siamo solo ragione, non siamo macchine, non basta ricevere delle istruzioni per eseguirle. Gli ostacoli, come li aiuti a decidersi per il Signore, sono soprattutto affettivi dal cuore. E' significativo che il primo miracolo compiuto da Gesù nel Vangelo di Marco sia un esorcismo. Nella sinagoga del Cafarnao libera un uomo dal demonio, liberandola dalla falsa immagine di Dio che Satana suggerisce fin dalle origini, quella di un Dio che non vuole la nostra felicità. L'indemoniato di quel pezzo del Vangelo sa che Gesù è Dio, ma questo non lo porta a credere in Lui. Dice, infatti, «Sei venuto a rovinarmi». Molti anche cristiani pensano la medesima cosa, che cioè Gesù possa anche essere il figlio di Dio, ma dubitano che voglia la nostra felicità. Anzi, alcuni temono che prendere sul serio la sua proposta, quello che Gesù ci propone, significhi rovinarsi la vita, mortificare i nostri desideri, le nostre aspirazioni più forti. Questi pensieri fanno tutta volta capolino dentro di noi. Che Dio ci chieda troppo. Abbiamo paura, no? Che Dio ci chieda troppo, che non ci voglia di avere bene, è così. Invece, nel nostro primo incontro abbiamo visto che il segno dell'incontro con il Signore è la gioia. Quando io ho una preghiera, non mi incontro il Signore, io divento gioioso. Ognuno di noi diventa gioioso. È una cosa bella, no? Invece, la tristezza o la paura sono segni di lontananza dal Dio. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti, dice Gesù al giovane Enrico. Purtroppo per quel giovane alcuni ostacoli non gli hanno consentito di attuare il desiderio che aveva nel cuore di seguire più da vicino il Maestro Buono. Era un giovane interessato, intraprendente, aveva preso l'iniziativa di incontrare Gesù, ma era anche molto diviso negli affetti. Per lui le ricchezze erano troppo importanti. Gesù non lo costringe a desidersi, ma il testo nota che il giovane si allontana da Gesù triste. Chi si allontana dal Signore non è mai contento, pur avendo a propria disposizione una grande abbondanza di bene possibile. Gesù mai costringe a seguirlo, mai. Gesù ti fa sapere la volontà che per lui con tanto cuore ti fa sapere le cose, ma ti lascia libero. E questa è la cosa più bella della preghiera con Gesù, la libertà che lui ci lascia. Invece quando noi ci allontaniamo dal Signore non rimaniamo con qualcosa di tristezza, qualcosa brutta nel cuore. Discernere cosa succede dentro di noi non è facile, perché le apparenze ingannano, ma la familiarità con Dio può sciogliere in modo suave i dubbi e i timori, rendendo la nostra vita sempre più ricettiva alla sua luce gentile. Secondo la bella espressione del santo John Henry Newman, i santi brillano di luce riflessa e mostrano nei semplici gesti della loro giornata la presenza amorevole di Dio che rende possibile l'impossibile. Si dice che due espossi che hanno vissuto insieme tanto tempo volendosi bene finiscono per assomigliarsi. Qualcosa di simile si può dire della preghiera affettiva. In modo graduale, ma efficace, ci rende sempre più capaci di riconoscere ciò che conta per connaturalità come qualcosa che sgorga dal profondo del nostro essere. Stare in preghiera non significa dire parole, parole, no. Stare in preghiera è aprire il cuore a Gesù, avvicinarsi a Gesù, lasciare che Gesù entri nel mio cuore e ti faccia sentire la sua presenza. E lì possiamo discernere quando è Gesù o quando siamo noi con i nostri pensieri tante volte lontani da quello che vuole Gesù. chiediamo questa grazia di vivere una relazione di amicizia con il Signore. Come un amico parla l'amico. Io ho conosciuto un vecchio fratello religioso che era il portiere di un collegio e lui ogni volta che poteva si avvicinava alla cappella guardava l'altare e diceva ciao perché aveva vicinanza con Gesù. Lui non aveva bisogno di dire bla 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 no ciao ti sono vicino e tu mi sei vicino. Questo è il rapporto che dobbiamo avere nella preghiera vicinanza vicinanza affettiva come fratelli vicinanza con Gesù un sorriso un semplice gesto e non recitare parole che non arrivano al cuore. Come diceva parlare con Gesù come un amico parla l'altro amico è una grazia che dobbiamo chiedere gli uni per gli altri vedere Gesù come il nostro amico il nostro amico più grande il nostro amico fedele che non ricatta soprattutto che non ci abbandona mai anche quando noi ci allontaniamo da lui lui rimane alla porta del cuore e no io con te non voglio sapere nulla diciamo noi e lui zitto rimane rimane lì a portata di mano a portata di cuore perché lui sempre è fedele andiamo avanti con questa preghiera diciamo la preghiera del ciao no la preghiera di salutare il Signore con il cuore la preghiera dell'affetto la preghiera della vicinanza con poche parole ma con geste e con opere buone grazie